Davanti il bottone E' capitato di vedere un ragazzo Rosso e ricciuto E stava andando a lavorare ad un ente pubblico Quello di fronte è il portone di casa mia a Roma Si presentò questo ragazzo e si chiama Cesarino Cesarino paparia su quel lungomare di Cetraro Sta solo con gli amici su quel lungomare di Cetraro Cesarino si trova per le vie di Roma Va alla stazione termini a prendere il trenino regionale Parte da solo con la bossa per cività vecchia A volte parte pure per Frosinone Cesarino paparia su quel lungomare di Cetraro La sera con gli amici su quel lungomare di Cetraro Cesarino paparia su quel lungomare di Cetraro La sera con gli amici su quel lungomare di Cetraro La sera con gli amici su quel lungomare di Cetraro Cesarino esercita la professione di avvocato a Roma Scende quattro volte all'anno Scende quattro volte all'anno in Calabria di Cetraro Cesarino paparia su quel lungomare di Cetraro Cesarino paparia su quel lungomare di Cetraro La sera con gli amici su quel lungomare di Cetraro di Cetraro, Cesarino, Papaglia, su quel lungomare di Cetraro, la sera con gli amici, su quel lungomare di Cetraro. Grazie.